Marco Mastria un'ottima Mastria questa sera non è stato facile avere ragione della Melfast Basket Gela però alla fine due punti meritati per i giallorossi è stata una partita molto difficile gli avversari sono riusciti comunque a rimanere in partita fino all'ultimo e a 5 minuti della fine ma siamo comunque riusciti a dare un avance in più e a iniziare la partita la tua prova oggi è stata superlativa massimo in carriera in Cigot 18 punti veramente una grande prova la tua oggi sono riuscito a dare un contributo in più durante la partita e comunque spero di dare sempre il meglio e di aiutare la scuola nel periodo di off ecco il futuro il futuro vi vede poi di fronte la prossima settimana con la Green Basket Palermo un gran match vi aspetto si sarà una partita molto difficile comunque dobbiamo cercare sempre dalla difesa come dice Billi e dalla difesa e cercare di dare il meglio poi in attacco va bene grazie nulla grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.